Mister Pagliaccetti, cosa l'ha convinta ad accettare il progetto Rosetana? Ma è stata una nuova avventura, sono stato contattato dal presidente. All'inizio era un po' titubante perché sai, è un contesto un po' diverso da Giulianova, dalla categoria che avevo fatto. Però poi piano piano ci ho pensato, è una sfida e a me sinceramente le sfide piacciono per cui l'ho accettata. Ovviamente mi sono portato di Domenico come secondo, Daniel come preparatore portiere e Edoardo Labarba come preparatore atletico. Quindi lo staff si può dire che è quello di Giulianova, conosciuto, fidato. Adesso piano piano dobbiamo allestire la squadra, anche se dalle voci che corrono la gente ha fatto uno squadrone. Però noi pensiamo alle nostre cose, pensiamo ai nostri obiettivi e cominceremo a lavorare lunedì prossimo, comincerà la preparazione. Mi riaggancio proprio alla Sant'Egidiese. Lì andrà Luciano Cerasi. Come sarà sfidare un altro ex Giulianova che conosce benissimo Pagliaccetti? Va bene, ma il rapporto che c'è con Luciano è noto da tempo, non è quello, anzi. C'è Romano che viene qui, che gli fa da secondo, viene qui al mare, ci parliamo spesso. No, va bene, ma ci siamo rimessi in discussione un po' tutti e due. D'altronde non è che dobbiamo fare una carriera di allenatori, però ci conosciamo, sappiamo come la pensiamo. Quando accettiamo una scelta, facciamo una scelta, la accettiamo e la facciamo per vincerla, soprattutto per fare bene. Poi si può vincere o si può perdere, noi sappiamo qualcosa dell'anno scorso. Ecco, lui si è portato, tra virgolette, qualche ragazzo di quel Giulianova, Pagliaccetti porterà qualcuno alla Rosetana? Beh, sì, qualche ragazzo dall'Uniors l'ho portato, ma anche se è in prova così. Poi vediamo, vediamo, perché lui si è portato giocatori importanti, ha portato giocatori importanti che facevano una differenza in eccellenza, viviamoci in promozione. Però, niente, noi siamo una realtà diversa, stiamo lavorando per fare una squadra buona. è normale che poi ci dobbiamo mettere sempre un qualcosino in più, fare una scelta sempre migliore per poter alzare la sticella e la qualità della rosa.